Dottoressa Cinzia Mirabella resta tema caldo a Torre del Greco, quella della questione rifiuti. È ancora un tema caldo e lo è sempre stato per ogni amministrazione comunale, è sempre stato il tallone di Achille, perché c'è ancora molto da fare e c'è ancora molto da educare, se possiamo così dire, una popolazione che ancora non è abituata a un porta a porta. Ci sono molte zone dislocate, molte zone non servite e quindi c'è bisogno ovviamente di educare la società Butol anche a servire queste zone. E poi ovviamente c'è una parte dell'educazione che va fatta proprio ai cittadini. Lei parlava appunto di rieducare i cittadini e infatti ancora una questione importante, quella relativa agli ingombranti che tutti i giorni si trovano sul suolo pubblico. Diciamo che il problema ingombranti è un problema che ingombra, se possiamo essere ironici, che potrebbe essere risolto ovviamente con l'apertura di un centro servizi. Questo farebbe sì che la gente potrebbe sversare liberamente quelli che sono materassi, RAI, frigorifero, frigoriferi e anche a volte copertoni delle auto. Continuamente noi ogni giorno troviamo sul territorio abbandonati in zone anche isolate. Un centro servizi potrebbe essere la soluzione, anche se molto chiacchierato, anche se molto discusso, dibattuto anche negli ultimi consigli comunali. Però potrebbe essere la soluzione ovviamente abbinato a una serie di servizi che comunque potrebbero essere anche di svago, anche di cultura. E quindi non un luogo di degrado come spesso si pensa o si ipotizza, ma potrebbe essere la soluzione ovviamente oggi allo sversamento illecito di ingombranti. Quali sono quindi ad oggi gli obiettivi e le iniziative che il Comune di Torre del Greco, in sinergia con la Butol, propone ai cittadini e si augura di mettere in campo al più presto? Allora noi come amministrazione abbiamo ipotizzato prossimamente all'introduzione di nuovo delle guardie ambientali, che è un qualcosa che ha funzionato negli anni addietro e che vorremmo riproporre. Il problema che sollevavano i cittadini era quello relativo ai bidoni al di fuori delle abitazioni, le norme relative al bidone, quando esporlo al di fuori dell'abitazione, quando invece no? Il problema dei bidoni è sempre un problema per chi ce l'ha fuori casa, magari piano terra, ci sono diverse proprietà che mi hanno contattato, perché magari si trovano fuori all'estremità di strade private, quindi il bidone deve stare ovviamente fuori nella strada pubblica e rimesso dentro nella strada privata negli orari di conferimento e di non conferimento stabiliti. Stiamo sostituendo i numerevoli bidoncini per arrivare soltanto a un numero esiguo che dovrebbe essere di due per ogni sei famiglie, per sei unità. Questo ridurrebbe il problema dei bidoni, soprattutto nella circunvalazione, dove appunto le mamme fanno slalom sui marciapiedi per salire e scendere, dove non si riesce ovviamente a camminare e anche i portatori di handicap mi hanno più volte segnalato problemi. Stiamo partendo dalla circunvalazione, ma poi abbracceremo un po' tutte le strade. I bidoni avranno un'etichetta, un codice identificativo, quindi saranno personalizzati, sarà responsabilità di chi lo gestisce, ovviamente curarne poi che sia effettuata regolarmente la raccolta differenziata.